Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vi faccio vedere un video di make up con una palette della make up revolution che si chiama fortune favori the brave è una palette molto carina la volevo mettere in azione quindi ho fatto questo video tutorial se il video vi è piaciuto mi raccomando spoliciatemi tantissimo fatemi tanti commentini fatemi sapere se il video vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi per non perdere i nuovi video noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti.